L'agroalimentare ha trascinato la ripresa dell'export toscano durante gli anni della pandemia. Per questo sono alte le aspettative per la nuova edizione di Buy Food, la vetrina internazionale promossa da Regione e Camera di Commercio di Firenze, per favorire l'incontro tra aziende che producono eccellenza sul territorio e importatori stranieri. Di rilievo anche i numeri della Kermess. 70 le imprese agricole coinvolte, 50 invece buyers provenienti da 22 paesi stranieri. 290 prodotti, prodotti GP, DOP e PAT, prodotti agroalimentari tradizionali, che saranno presentati in queste due giornate. Sono già 600 gli incontri agendati fra i nostri produttori e i buyers con al centro i grandi prodotti toscani. L'evento B2B è in programma l'11 e il 12 ottobre prossimi al Palazzo degli Affari di Firenze. Tra le novità della nuova edizione è il coinvolgimento della grande distribuzione. Tutti questi temi raccontano la Toscana e attraggono in Toscana sia investimenti che visitatori e quindi Fondazione Sistema Toscana con tutti i suoi strumenti digitali, dal portale Visitascani fino alla redazione in Toscana, su tutti i canali social promuove questa iniziativa. Secondo i dati emersi da un'indagine condotta a distanza di sei mesi dall'edizione 2021, il 77% delle trattative intraprese è andato avanti, portando ad un accordo commerciale in più del 50% dei casi.